Appuntamento speciale domenica a Rezzo con la sagra del brusso e dei formaggi tipici locali, un programma nutrito tutta la giornata. Sì, un po' ritorno alle antiche tradizioni. La Procco di Rezzo organizza la saga del brusso e dei formaggi locali. Il brusso è un formaggio tipico della Valla Rocia ma con origini molto ben fissate nel paese di Rezzo. E la facciamo la domenica, come si facevano le vecchie saghe, le saghe di 40 anni fa, di 50 anni fa. Abbiamo l'apertura degli stand sia a mezzogiorno che alla sera con l'orchestra che incomincia a suonare tutto il pomeriggio fino a poi a notte inoltrata. Il programma è vastissimo perché abbiamo escursioni alla mattina per chi vuole andare nel bosco, per chi vuole andare a vedere i laghetti. E poi al pomeriggio chi vuole può anche usufruire di nuovo dei nostri mezzi per essere accompagnato al Museo del Territorio. Nella nostra fattispecie sono gli scalpellini di Cennova e quindi a vedere tutte queste pietre scolpite che sono sul nostro territorio sia a Rezzo che delle frazioni. Punto di ritrovo? La pagoda? Assolutamente la pagoda di Rezzo, sì. Quindi si parte alle 13 e il programma completo è mezzogiorno e sera? Mezzogiorno e sera, assolutamente. Vi aspetto numerosi e vi ringrazio del tempo che avete dato alla Proloco di Rezzo e al Paese, tutto. Grazie. 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 Grazie.